buongiorno ragazzi vi ricordo per chi volesse sostenere questo canale lo può fare solo ed esclusivamente gratis iscrivendosi ed attivando la campana uno ieri non sono stato presente ero ad una comunione zona mare e dall'altro ho mangiato in un ristorante ringrazio chi me l'ha chi me l'ha segnalato ho parlato con un chef che è interista tra l'altro anche lui che non poteva guardare la partita come me però ogni tanto davo una sbirciatina con l'ipad ma poi mia moglie mi bacchettava con la forchetta sulle mani fermo anche qui e allora l'ho dovuta rivedere un calma stamattina la partita cerca di capirmi di osa ragioni prova te con la moglie mentre sei in una comunione guardare la partita con l'ipad se ti riesce tanto i fuori classi i fuori classi con le mogli è difficile farli ragazzi ma andiamo sinceramente è inutile fare il super uomo io fo che mi pare comando io non comandi te comandano loro e e ho visto e ho notato che iurici che è un allenatore io stimo molto soprattutto per come gestisce le squadre a livello difensivo ho notato che per contrastare l'intero obbligava i suoi a ad una ad una massacrante marcatura ad uomo a tutto campo no quindi però e poi giropalla veloce dell'inter il movimento senza palla li ha fatti un po' sfiancare se te guardi i primi 45 minuti nello specifico capisci benissimo perché a Serbia ha dovuto giocare anche con la pubalgia perché Zapata eh che non è eh diciamo Vinicius del Real Madrid eh Zapata fa un po' fa un po' quello che gli pare con la nostra difesa Devrai Devrai è un centrale che a me piace però è un centrale che spesso va troppo di fioretto fa sempre l'interventino bello pulito è un po' come il bravo ragazzo che le mamme vorrebbero come fidanzato per la propria figlia Devrai è questo non è cattivo però è bello da vedersi bravo con i piedi uscita palla per come vedo il calcio io il difensore centrale deve essere cattivo capito deve spaventare l'attaccante il difensore centrale e mh capisci ripeto perché a Serbia ha dovuto giocare con la pubalgia su a Serbia io ragazzi eh io non pensavo minimamente che lui potesse offrire eh certe prestazioni ad oggi è il miglior centrale italiano secondo me insieme a Buongiorno che Buongiorno tra l'altro sta incominciando a giocare anche centrale con ottimi risultati perché lui spesso giocava a braccetto sinistro quando io la ho un anno e mezzo fa parlavo di Buongiorno su YouTube qualcuno mi prendeva in giro dicendomi Buongiorno Giuse e ora è un giocatore che vale 40 milioni quindi come quando Marotta ti dice la nostra fortuna ma veniamo al sodo ragazzi intreviamoci un po' di sassonina alle scarpe come quando Marotta ti dice la nostra fortuna è stata lo riprende Lukaku quest'estate io venivo quando ti dicevo miglio verde io l'ho sopannominato miglio verde in riferimento al film lascialo lì miglio verde non ti serve a nulla è un giocatore che tecnicamente per come gioca in zaghi eh non non serve a niente anche se ha fatto 10 gol 12 gol ma lui fece 12 gol al campionato quasi concluso e ormai ce l'avamo dedicati solamente alla Champions perché se te mi dici Lukaku fece 12 gol io ti dico che qui il gol che ha sbagliato in finale di Champions lo facevo anch'io non ti dico Icardi Zigzeh eh Suarez Neymar un giocatore normale lì avrebbe fatto gol e lui sbaglia un gol clamoroso quindi di cosa ragioni dimmi di cosa stai ragionando quando io ti dicevo lascialo lì non lo riprendere in aria serve un giocatore veloce che bravo negli spazi stretti che quando ha la palla che rimane attaccata non che stoppa la palla e gli va un metro come miglio verde perché Lukaku addirittura da quando giocava per l'altro la Roma gioca meglio l'altro attaccante lui non ricordo il nome attenzione faccio caso da quando è uscito Lukaku che giocava per l'altro la Roma gioca meglio di cosa ragioni a te che mi offendevi quando ti dicevo Lukaku lascialo stare Marotta però se lo diceva Marotta va bene Marotta dice la nostra fortuna è stata non riprendere Lukaku allora ci sono dei giocatori che in questo miracolo sportivo non hanno dato nulla questa è una rosa che con tredici quattordici giocatori che hanno dato il proprio contributo alla clausola hanno fatto un miracolo sportivo perché io ti ricordo che anche con l'Atletico Madrid in Champions League l'Inter a Milano domina stradomina e purtroppo Margheritoni butta una palla nel fiume una sulla terrazza della signora lì nel quartiere Baggio e un'altra rompe un filestino di un appunto nel parcheggio con un attaccante normale al posto di Anatovic secondo me noi saremmo passati sia in Champions che in Coppa Italia dove andiamo fuori contro il Bologna perché anche lì si mangiò l'impossibile Anatovic è un giocatore imbarazzante anche lì quest'estate quando ti dicevo lascialo perdere è stato sei fermi è stato fermo sei mesi fino a giugno andavo alle stampelle non si allena benissimo è grosso ha problemi fisici è un giocatore non è quasi mai arrivato in doppia cifra nemmeno in Cina mi sembra ha fatto dieci gol non è mai stato un bomber lo so che sta a giocare a calcio lo so che ha personalità lo so che fa dei begli assist lo so che è forte di testa ma è un giocatore che non ci darà nulla anche lì Giuseppe ma cosa dici cosa vuoi prendere di meglio con dieci milioni l'hai visto cosa potevi prendere di meglio dieci milioni Anatovic contributo alla alla clausola zero quindi signori classe sensi quadrato Anatovic su più che non te lo ripeto per l'ennesima volta cioè più che non fisicamente il ragazzo non ti parlo tecnicamente o di qualità io ti dico che fisicamente più che non non è all'altezza del campionato italiano lui deve fare una preparazione fisica per irrobustirsi prima di giocare nel campionato italiano perché tieni da un campionato e far ridere più che in più che insieme a quello portoghese velo belga anche se è salito di livello negli ultimi anni ma lei è un campionato che fa ridere i polli di cosa ragioni non è pronto a livello fisico questo ragazzo poi l'ho capito e prova a saltare l'uomo è veloce tutto quello che ti pare ma e montano fatti il fumo contano fatti capisci che ti voglio dire quindi prossimo anno io ti dico solamente una cosa ci sono cinque competizioni tra la supercoppa anche se è breve mondiale per club champions league campionato te da questa rosa devi togliere classen devi togliere sensi devi togliere quadrato devi togliere arnautovic devi togliere buchanan e devi togliere sanchez devi togliere sei giocatori che non ti hanno dato nulla perché gli unici che hanno contribuito in maniera importante partendo dalla panchina sono soprattutto carlos augusto e frattesi io ci metto anche eh aslani perché comunque aslani in quel mesetto che c'è stato si è comportato bene e ci metto anche bisse che comunque bisse che qualcosa ha dato alla causa alla causa ma gli altri sette giocatori ci sono sette giocatori da mandare via te il prossimo anno non puoi affrontare con dei titolari di un anno più vecchi con peso a cerbi dal mio anno sai il portiere a 36 anni lo può tenere un altro anno ma mkhitaryan comincia a avere 35 anni te non puoi affrontare 70 partite con questa rosa qui per come la vedo io servono 8 9 giocatori minimo su Taremi lo sapete come la penso a me non piace tanto il mio giocatore spero che mi smettisca però purtroppo su Lukaku non sono stato smettito su Annatovic non sono stato smettito su Gosens non sono stato smettito su Correa non sono stato smettito o purtroppo purtroppo per l'Inter io spesso ci becco capito vale il discorso quindi questo è un miracolo sportivo che devi togliere 6 7 giocatori che non hanno dato nulla alla lausola che hanno portato avanti dirigenza allenatore e 13 giocatori quindi complimenti ancora sullo spettacolo io non sono potuto venire a Milano ma molto probabilmente non ci sarei nemmeno andato difficilmente vado in quel casino mi piace più vederlo no però ragazzi 400 mila persone 500 mila persone a festeggiare la seconda stella non ce l'ha nessuno un tifosi a maggior ragione un tifo così si merita una presidenza e una proprietà che possa investire perché ora c'è una macchina perfetta ma ti devi fermare e fare manutenzione se fai manutenzione continua a dare 200 all'ora se non fai manutenzione incomincia a rallentare te lo dice giusto ciao inter